Aspetta, è meglio che mi controlli faccia, aggancia, però pensi già da quella parte, alzati però stai spingendo, io vado e tu piano piano questo braccio, vedete dove mi è piede, si, giro ti ho ancora, ancora, a mio piede deve essere qui in centro, si, controllo, vai, resta così, ora tu braccio destro deve essere vicino di tuo ginocchio destro, hai dimenticato, no guardavo questo si roba, no ginocchio destro e braccio destro devono essere vicino, oh, hai sentito? Se non spingi con i gambe io non sento dolore, dai, 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 spingi, spingi, non sento, ma questo si allunghi dopo? Questo, no, deve avvicinare proprio qua, dai, tira verso di te, wow.